Arrivano le condanne e superano il secolo complessivo di carcere per gli imputati nel processo nato dall'operazione Frotte della Guardia di Finanza di Lecce. Esattamente un anno fa gli arresti, 29 in tutto, con le accuse di traffico e spaccio di stupefacenti, un'operazione che aveva smantellato un'organizzazione che aveva come base operativa la zona 167 di Lecce, ma che grazie alla fitta rete dei spacciatori si stendeva anche a Nardò, Poggiardo Maglie, Campi Salentino, Giano La Chiesa, San Pietro Vernotico, Sino a Brindisi e a Mola di Bari. E il gruppo di Davide Vadacca, sotto la leadership del boss Roberto Nisi, un tempo poi diventato sempre più autonomo. Per lui il gruppo Simona Pazzera, al termine del giudizio in abbreviato, ha inflitto la pena più alta, 17 anni e 8 mesi, 12 anni ad Alessio e Bellanova, detto Gabibbo, con danni dai 9 ai 3 anni, per tutti gli altri. Nomi legati anche a fatti di sangue avvenuti negli ultimi anni con agguati sparatori per la gestione del traffico di droga che seguiva principalmente la rotta Albania-Salento.